Amici di Android Blog, è la camera da 3.1 megapixel del Vodafone Smart 4 Mini che sta girando questo video. Proviamo subito un controluce per poi provare l'adattamento a altre condizioni di luce. Muoviamoci velocemente verso destra e verso sinistra. Proviamo come di consueto a camminare per vedere la stabilità del video. La camera ha a fuoco fisso, quindi io provo ad avvicinarmi al nostro consueto vaso di fiori, ma non vedremo nessun tipo di adattamento. Tentiamo uno zoom, zoom ovviamente digitale. Zoom che non interpola i pixel a quanto pare. Torniamo a zoom normale e muoviamoci ancora un po' per questo video girato alla risoluzione massima di 720p da Vodafone Smart 4 Mini. Grazie. Grazie. Grazie.